Alla fine di questi quattro anni alla direzione dell'Istituto Italiano di Cultura, volevo salutarvi con questo video in cui sono raccolti alcuni dei momenti della nostra programmazione. Naturalmente non c'è tutto perché in questi quattro anni abbiamo proposto molte cose, abbiamo organizzato una cinquantina di mostri, abbiamo organizzato oltre 600 eventi tra incontri, concerti, spettacoli, proiezioni e quindi non possiamo raccogliere tutto in un video. Spero però che da questo video emerga la qualità, la ricchezza, l'eccellenza della cultura italiana e emerga il progetto che abbiamo cercato di proporvi. A queste manifestazioni siete venuti in tanti e di questo vorrei ringraziarvi, vorrei ringraziarvi della vostra partecipazione calorosa e ne approfitto anche per ringraziare tutti gli artisti, tutti gli intellettuali, gli scrittori, i cineasti, gli scienziati che sono venuti alle nostre manifestazioni e che li hanno reso possibili. E naturalmente vorrei anche ringraziare tutto il personale dell'Istituto Italiano di Cultura senza la cui collaborazione fondamentale nulla sarebbe stato possibile. E infine ringrazio anche l'Ambasciata per esserci stata sempre vicina e per esserci sempre sostenuto. Da ultimo vorrei salutarvi invitandomi a continuare a frequentare l'Istituto Italiano di Cultura di Parigi e continuare a scoprire tutta la ricchezza e la bellezza della cultura italiana. Arrivederci! Comincia la tua vita veramente, con coraggio. Io ho fitta gamene, madonna samba, piuttosto mi butto a fiume. E tutt'ancun trovo un poesie, ti trovo delle cose che sono un plan di semplicità ma di complessità. C'è davanti Ailer, il ha appriso visitamente a creare le libri a través del carattere e della composizione alla mente. L'idea di cominciare a lavorare su qualcosa che non ne sapeva, è qualcosa che mi fascina, è un grande piacere. Noi siamo, vi immagini, molto felice di essere qui, nel decoro del film. C'è vero che le immagini hanno giù un ruolo molto importante nel mio lavoro, nel mio tragetto internazionale. C'è la prima dei tre raggiunti che abbiamo deciso di organizzare a l'occasione dei 60 anni del tragetto dell'Europa, che ha marato un po' il cuore dell'envoi della costruzione europea. C'è vero che l'Italia è completamente perduta nella costruzione non realistica. Normalmente le persone pensano che l'opera si è perduta, ma oggi non è vero. Ho dovuto calarmi all'interno di una mentalità che fa il conto con i propri limiti. Cos'è il conformismo, volevo definire in modo serio? È la gravata che ti sei messa per venire in internazionale. È del maglione che tu porti per dire che sei un attore e non sei morti per sferme. Oh yeah! Tutto il resto senti i menti pulirsi bene, è bellissimo, esiste così, ma loro, i miei protagonisti, sono sempre a dire chi ti dice che il denaro non conta e chi ce l'ha. E questo lo sanno anche i discepoli, molti lo sanno. Oltremente non ci trova nessun frutto e si è un frutto. Mi chiamo Nicolò De Giorgis e sono un fotografo. A febbraio ho fatto una residenza qua all'Istituto di Cultura nel quale ho sviluppato un progetto che adesso viene esposto durante il nuovo della fotografia. Eh? Invece devo mandarti subito del tuo papà e della tua mamma, eh? Ehi, ma mi devo fare? Mi tengo un amico? Ehi. C'è Eiver il soコ, Eiver. E' inizia a pulsare con l'outero. Tu fesi desistuare o lui fesi un personaggio uguale dei copi? E' il desiderio mio che tu hanno? No! Navolo senza famigli Navolo senza figli Navolo un picchio Vi pagano uno figli Navolo senza figli Solo aggiungere una cosa, non saremmo qui a parlarne se non fosse un fenomeno mostruoso Sarà venire in Torino festeggia quest'anno sui primi trent'anni di vita On ha choisi come titolo de sensuale l'interazione gastronomica Una cosa che va via con noi sopra, rallento Una cosa che va via con noi sopra Mi fermo E allora io ho sempre cercato questa leggerezza Ho sempre non capito le sudate carte Sì, ci sudi, ma poi l'asciughi in maniera che non si veda per niente Siamo qui io e Emilia Gatto con soggiornare l'Italia a Ampa Regi questa sera per onorare questa bella due giorni La questione di migrazione, qual è l'obbligo? E' la questione di migrazione delle forme E' bene a pensarci Non avviene anche a noi uomini qualcosa di simile Non crediamo anche noi che la natura ci parli Le mani dentro il salto congettano sul pane Mangiate filet miei quando vi sanziate A teo, fiori tuosi L'edizione è tua L'edizione di migrazione di migrazione L'edizione di migrazione di migrazione E' questo migrazione dell'implicazione teatrale Non è più la nostra città Adesso è una grazia, signora Viena di l'unica e l'unica Tu sei un genio Tu credi a tutto E ti butti con troppa facilità Perchè sei un genio Tu sei avido E fuorace di conoscenza E l'occhio a tutti i mangini Ma stai attento Ma stai attento Siamo tutti che il prezzo pagato Ha stato troppo alto E che niente di lui Non ci sarà restituito Grazie Grazie Ma se lo dico io Cioè se io mi metto a dire Non guarda io Sinceramente tra qualche anno Non mi va più di andare in scena Buona soirà E una buona degustazione Io sono sicuro che Vos avete molto bene mangato Ma anche qui Attenzione Non manca Un'idea di base Un filo conduttore Una tesi A cui l'autore tiene particolarmente Ma hai steso vestito sul letto Con le scalpe ai piedi E ha gli occhi chiusi Ma ha la sigaretta accesa In bocca non dorme C'ha sulla faccia la smorfia Della privazione Che gli fa male Beh Allora Cosa hai portato? Io Azzanno Ma sai no Veramente Te audizioni Il y aveva due cose Che volessero dire Ma non ce n'è mai Non ce n'è mai Di algo Azzarna Il tempo e sono fatiguita. Non, la pietà non l'aurai mai laissé fare, ma... ...elle è venuta con ses seins. Abbiamo proceduto all'arresto del denominato La Pietà George, Renato l'insigna delle catégorie più disagiante. Pourquoi c'è la puissance dei partiti politici in Italia? Quelli che dicono, assolutamente, in un paese come l'Italia dov'è tutto sempre approcciare. Le francese sono degli italiani di mauva impegno, ma il piede montato si rassembla in pace. Cosa che aveva effetto di un po' è di creare un paese. In basso alla risposta ci indicavano due diverse direzioni. Prendete due peinture sulle peinture e io voglio veramente peindre. Il bisogno di avere un colore e essere obbligato a reagire a queste colore. Si vuole un artiste, si vuole un philosophe. Abbiamo bisogno di un volano di cambiamento culturale evidente. Una parola che non diciamo per pudore. Torna nuova e torna pura. Patria. C'è chi dice che anche la luce nasce dall'oscurità, ovviamente. C'è chi dice che l'amore dell'amore 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 dell'amore. deve essere abituale. E anche il che esatto. Il ton è un po' di dolore. Il ton è un po' di dolore. Non è un po' di dolore. Il peggio esatto. È un po' di dolore. Il peggio esatto. Questo amiello è preso, disossato completamente in aperto. Si va a metterlo nel forno a 160 rai per 45-50 euro. Si va a metterlo nel forno a 160 rai per 45-50 euro. Lui compagni eravamo vecchi e tardi quando venimmo a quella fuce stretta dove erano con i signori suoi riguardi a ciò che l'uomo più oltre non si metta. E Basalia partecipò al concorso, lo vinse per andare a dirigere il manicomio di Gaurizio. Non ci si può battere perché la contenzione finisca, la contenzione legare le persone, se non hai smesso di contenere le persone. Più di 30 anni fa, nel lontano 1982, la pietra iniziale del nostro percorso. che ognuno di loro esprime la noia della vita, perché la vita è abbastanza noiosa in generale. Si è stato un amico di Giappone, Giappone, Giappone e Giappone. realizzando così forse l'unico, vero, amplissimo libro di famiglia che possiamo immaginare di avere sull'Italia. Giappone 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 Gioacchino Rossini Gioacchino Rossini Giappone E poi la gastronomia è come le donne, non ha confini. E la gastronomia è come le fammi, la pagine, sono funcetta. Ero sempre la figlia del tedesco. Sono andata a studiare poi a Torino e sono diventata l'Umbria. E solo quando, l'Umbra, e solo quando sono arrivata a studiare il Portogallo sono diventata finalmente italiana. Giappone aveva gli scontitti e aveva gli uvelli longi, come, noi, e femminile vuole blonde. E io dovevo cambiare coloro tutte le tre settane. E gli ho detto l'essere, il mezzo. Guarda, questo ha scritto un personaggio della mano. Oh, ci posso credere! Moi, c'è vicino a Fenetto, c'è vicino a Siesa, ma passiamo a sapere che c'è vicino a Fenetto. Mesmo la Mediterranea ha molto di cuore. È una specie di cuore della Mediterranea. Tanti auguri fraule, tanti auguri fraule, tanti auguri fraule. Non esiste una città che sia come Napoli perché è l'unica città del mondo con la periferia in centro. Qu'il ha una forza, qu'il muove tutti gli as, tutte le stelle, tutte le città, tutte le città. È l'amore! La storia della Finals Ancina Menina l'Udice, dopo l'Udisra. Diez anni dopo, dopo lavenire di Eccaratta. Beh, là, ci dobbiamo fare a dei Sottotitoli. Questi Sottotitoli sono una figura un po' di modè, e in effetti le persone che prendono un po' profetico sono in generale antipetico. Fino a una decina d'anni fa nessuno in Occidente immaginava che si potesse ipotizzare una crisi della democrazia occidentale. Non pensare tanto perché il tempo è misterioso e magari non esistono. Le multinazionale più ricche che costano a Wall Street centenze e centenze di miliardi hanno un privilegio feodale. Credo che sia l'un dei aspetti più injusti delle regole del gioco di questa mondializzazione. Il gesto del padre che ha lottato tanto per il lavoro, per i diritti del lavoro eccetera è un gesto anarchico totalmente che però chiede umanità. Ciao, sono Lorenzo Mattotti, ho lavorato con le immagini. C'è con le dessin che ho cercato di raccontare delle storie. Perché Cléopatra ci preoccupa tanto? C'è una femme un po' misteriosa sicuramente, ma è una femme moderna. Mi chiamo Mario Taddei e per la prima volta qui in Francia vi ho portato il leone meccanico Leonardo da Vinci. C'è l'occhio, la pensione che ha dato un senso al miroir perché ci rendiamo conto che ciò che va davanti e noi siamo noi mesi e ciò che è dietro. Anche da bambina è vero che mi trovavo a Genova e mi trovavo a Milano, però ero una sarda convinta. Potremmo ancora immaginare che un'idea della cultura, ciò che vuol dire un'idea delle politiche, un'idea della società che è conseguente, un'idea della cultura, possa essere un momento di formazione mutuelle. E quando dico che uso l'isola come metafora è perché penso sempre che l'immagine sia come un'isola. A Parigi puoi sempre sperare di trovare ciò che credevi per tutto. il passato proprio o altrui. Dunque, un altro modo ancora di vedere questa città, come un gigantesco ufficio degli oggetti smarriti, un po' come la luna nell'Orlando Furioso dove si raccoglie tutto ciò che è stato perduto al mondo. Finalmente all'estero posso parlare l'italiano, ma capiscono tutti. Grazie a 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 tutti. e che quando sei in l'azione, non pensi che la rivoluzione è un grande obiettivo, è solo che tu sei dentro. Dinamo d'occhi viene raccontata a tutt'oggi, spesso, troppo spesso, come una ferme fatale, come una donna capace di seduzione costante nei confronti delle persone che gli stavano davanti, in particolare artisti. Non era così. bearvi fargliere altri obiettivi e le direi ai amici. Non è un'esilistra? No, non è un'esilistra, non è un'esilistra, non è un'esilistra. Non è un'esilistra che, mentre ne fanno andare, è un'esilistra, dunque, non è un'esilistra, dunque, non è un'esilistra,